Un saluto a tutti da Criticone, questo che vi mostro è uno smartphone che mi è stato inviato dalla ditta 2G è l'X5 Max Pro, uno dei telefoni diciamo recenti che sono usciti di questa marca e di questo modello, cioè del X5 Max Pro, sono presenti due varianti allora la prima è con 1GB di RAM e 8GB di memoria interna il secondo, che è questo qui che vi mostro ora, è da 2GB di RAM e 16GB di memoria interna andiamo a vedere le caratteristiche che troviamo qui dietro la scatoletta troviamo uno schermo a 5 pollici, processore quad core a 64 bit una videocamera, qui dice 8 megapixel ma in realtà sono 5 megapixel interpolati poi a 8 troviamo il fingerprint che sarebbe il lettore di impronte digitali 2GB di RAM perché come vi dicevo questo è il modello superiore diciamo 16GB di memoria interna 4000 mAh di batteria quindi poi dopo ne parleremo della batteria perché è particolare questa qui cioè più che altro è particolare il telefono che ha un basso consumo Android 6.0 quindi l'ultima versione e dual sim la possibilità di inserire due carte sim all'interno del telefono per usufruire di due reti differenti all'interno della confezione, adesso io già l'ho tolto il telefono perché ho fatto i miei test di solito lo trovate all'interno di questa pellicola qua la faccio vedere, questa è una pellicola trasparente e dentro c'è il telefono qui all'interno troviamo invece gli accessori gli accessori sono minimali ragazzi, non c'è quasi niente dentro c'è soltanto l'adattatore USB per la ricarica del telefono il cavetto USB, eccolo qua l'altro cavetto di connessione è micro USB quindi quello classico che utilizzano anche gli altri telefoni i Samsung per lo più queste sono delle istruzioni o comunque un foglietto illustrativo che ci fa vedere le caratteristiche principali del telefono allora ragazzi, la cosa importante, questo qui come vedete i componenti sono ridotti all'osso, questo perché? perché è un telefono di fascia bassa bassa intendo dire non che fa schifo ma che costa molto poco e ovviamente per contenere il prezzo hanno cercato di risparmiare sulle varie caratteristiche, tra l'altro sugli accessori il prezzo con cui viene proposto in Italia è rispettivamente 62 euro la versione da 1 giga di RAM e 8 giga di storage mentre questo qui viene proposto a 98 euro che comunque è un prezzo accettabilissimo in un telefono di queste caratteristiche vediamo se riesco a mostrarvelo senza troppi riflessi allora, nella parte frontale troviamo fotocamera anteriore da 5 megapixel alto parlante, qui sotto ci sono i tasti tipici di Android che nella versione da 1 gigabyte non sono retroilluminati e non sono vibranti in questa versione sono solo vibranti, quindi niente illuminazione anche qui per quanto riguarda dietro troviamo lettori di impronte digitali troviamo il flash led e la videocamera posteriore che è sempre da 5 megapixel interpolata poi a 8 megapixel nella parte sottostante troviamo alto parlante e microfono andiamo nella parte superiore troviamo presa di alimentazione micro usb e jack da 3,5 mm per le cuffie lateralmente troviamo il tasto di accensione e il monopulsante per la regolazione del volume su e giù come scocca del telefono e diciamo come è realizzato a parte la parte frontale è quasi tutta di plastica questo anche per, come dicevamo prima, per contenere i costi andiamo ad aprirlo per vedere all'interno cosa troviamo aperta la scocca di plastica la troviamo la batteriona questa qui da 4000 mAh e troviamo la possibilità di inserire una sim una carta sim qui e una nano sim da questa parte quindi micro sim e nano sim e questo invece è lo slot per inserire la micro sd perché se vogliamo possiamo, anzi non se vogliamo, dobbiamo perché comunque anche se sono 16 GB di memoria interna non sono tantissimi se vogliamo ampliarla dobbiamo inserire per farsi una micro sd qui che comunque non comporta che ci occupa uno dei due slot da quest'altra parte cosa volevo dirvi sulla batteria? dunque la batteria è da 4000 mAh in ogni caso il telefono ha un consumo davvero basso perché questa batteria, io vi posso dire il telefono mi è stato inviato una settimana fa l'ho messo sotto test sebbene io non l'abbia utilizzato costantemente tutto il giorno quindi non c'erano le sim card per telefonare perché quello ho fatto una prova a parte ma durante il giorno non ce l'ho lasciata ho utilizzato di media ogni giorno il telefono circa 5 minuti per installare del software per fare delle foto, per fare del video allora la batteria dopo 3 giorni da quando il telefono era acceso e non l'ho mai spento era intorno al 60% 70% giù di lì 65% non era scesa più di tanto ed è durata 3 giorni ragazzi cioè ancora era carica quindi io veramente non mi capacito di quanto possa essere prestante almeno su questo andiamo a vedere poi le altre caratteristiche intanto rimetto ah vi voglio far vedere una cosa importante che ho dimenticato passiamo alle funzionalità del telefono quindi andiamo a chiuderlo da qui sblocco attraverso la lettura delle impronte digitali come avete visto ha funzionato benissimo inoltre è presente una funzione aggiuntiva che ci consente tramite un tap qui su di fare uno slide a destra ovviamente se avete più di due pagine arriverete premendo ogni volta il tap fino all'ultima per poi ripartire dalla home in questo momento ecco qui allora ho visto anzi su una recensione che c'era nel modello da 8 giga un bug inerente a questa funzione ossia quando andavamo a sbloccare il telefono effettuava uno slide subito dopo invece in questa versione non è presente come avete potuto vedere evidentemente avranno come dicevo già prima avranno cambiato alcune cose in questo e parlando invece delle funzionalità diciamo che abbiamo all'interno abbiamo la fotocamera abbiamo qui la possibilità di andare a configurarlo con tutte le opzioni e abbiamo la network qui abbiamo il bluetooth e la geolocalizzazione quindi è presente un gps e se andiamo qua possiamo vedere tutte nel dettaglio diciamo le varie funzionalità qui le info sul telefono per vedere versione software quindi abbiamo la 6.0 di android questo è il nome del modello e altre cose andando a vedere invece il discorso fotocamera che io in questi giorni ho testato allora la fotocamera che è quella che grossomodo interessa a molte persone quando compro un telefono posso dirvi che purtroppo non è un granché perché ritorniamo sempre sul discorso dell'economico quindi abbiamo questa fotocamera la cui messa a fuoco non è diciamo delle migliori funzionale funziona ma diciamo è un po' lenta a individuare il soggetto parte già abbiamo due modalità abbiamo la modalità bellezza che è quella che applica un piccolo filtro al viso e la modalità normale che è questa qua la modalità di default è quella bellezza non ho capito perché hanno fatto questa scelta però in ogni caso potete cambiarla come volete qui cliccando diciamo sull'apposita opzione è possibile attivare l'hdr per delle foto che hanno un contrasto più basso io vi vorrei far vedere qualche foto che ho scattato e poi la legherò sicuramente nella recensione scritta io devo essere sincero per quanto la messa a fuoco non è un granché però le foto ragazzi sono belle nel senso non mi sembrano bruttissime sono anche molto dettagliate guardate qui ho provato a fare guardate questa panoramica che ho fatto in montagna cioè non è male ragazzi ho fatto un video qui vi mostro il video scatta un po' nel senso che non è fluidissimo sicuramente è meno di 24 frame per secondo saranno io penso una ventina forse anche qualcosa in meno e queste sono le foto che ho scattato durante questa settimana diciamo che l'ho messo sotto stress e che dopo troverete allegate alla recensione alla recensione scritta che farò di questo telefono e quindi ritornando a bomba allora io ho notato per quanto riguarda la fotocamera allora per le foto ho notato questo le foto vengono scattate con un'esposizione leggermente più alta dello standard quindi se voi andate a scattare una foto sarà leggermente sovraesposta per quanto riguarda invece il discorso dei video i video sono un po' fiacchi nel senso vanno a scatti a voi sembra di riprendere bene ma poi quando lo andate a rivedere va un po' scattoso e questo purtroppo fa parte diciamo dell'economia che hanno fatto su questo telefono andando invece a vedere le caratteristiche hardware tramite CPU-Z io qui ho modo di vedere vedete come stanno lavorando i core possiamo tenere sotto controllo soprattutto da qui il livello termico della CPU in cui troviamo che le temperature sono tutte bassissime perché vi posso garantire che questo telefono per quanto voi lo tenete acceso non scalda granché adesso andrò a fare volevo farvi vedere un test con dei giochi per mostrarvi un altro aspetto interessante del telefono allora andando a giocare con Real Racing 3 che è un gioco che io adesso ve lo dico non è un gioco così leggero per essere un gioco in 3D io di solito quando parlo di telefoni economici sconsiglio l'uso dell'effetto diciamo dei giochi 3D perché andiamo diciamo a infilare un po' il coltello nella piaga sul fatto su un hardware che sebbene sembra appariscente alla fine non è un hardware chissà quanto forte però in questo caso io ho voluto provare lo stesso Real Racing e vi posso dire che funziona non è male come gioco allora facciamo un test io adesso faccio scorri per iniziare qui prima devo fare continua ecco vorrei farvi vedere al volo il gioco eccoci qui allora innanzitutto vi faccio questa premessa non aspettatevi che il gioco vada fluido come se avete un un iPhone di ultima generazione o un altro telefono perché chiaramente il costo è quello che è ma se notate sebbene il frame rate non sia sopra i 30 frame per secondo e comunque il gioco va a scatti però non è così malvagio nel senso che per chi non è molto esigente come magari un adolescente o un bambino insomma che può giocarci secondo me questo telefono va più che bene non posso dirvi che sia diciamo il top perché non lo è ma stiamo parlando sempre ragazzi di un telefono da 100 euro che per chi non ha grosse esigenze alla fine può andar bene anche per giocare altro gioco che mi piacerebbe mostrarvi è Temple Run 2 un gioco che comunque non ha bisogno di presentazioni e che talvolta mostra già come si comporta il telefono con il 3D come vedete è abbastanza fluido come gioco io non sono un grande giocatore ragione per cui sono finito di sotto alla prima botta ma come potete vedere il gioco va molto fluido al contrario di Racing 3 io penso che questo telefono sia un buon un buon telefono entry level per quanto riguarda la parte del gaming per quanto riguarda invece altre operazioni andiamo a vedere subito allora io proporrei di vedere Facebook eccoci qua su Facebook andiamo a vedere com'è la navigazione come vedete il tempo di caricare qualche pagina ma il telefono fa molto veloce non è assolutamente lento come si potrebbe immaginare o ci si potrebbe aspettare da un telefono di fascia economica l'applicazione interessante che volevo mostrarvi che troveremo già preinstallata su questo telefono è Parallel Space questa applicazione ci consente di pubblicare l'istanza di un'applicazione che noi già possediamo come ad esempio io ho configurato qui Facebook se volete ne potete aggiungere un'altra semplicemente sfogliando tra le applicazioni che già avete potreste mettere ad esempio un gioco o qualcos'altro andando a cliccare su questa opzione dell'altra istanza potremmo inserire i dati di un altro account come ad esempio qui ho messo il mio profilo privato e navigare all'interno di questo profilo per poterlo configurare come voglio e invece se volessi caricare Facebook col mio profilo da recensore lo troverei da quest'altra parte vedete io in questo momento è come se ho due account di Facebook con due diversi utenti questo è il funzionamento di Parallel Space appunto dal nome è uno spazio parallelo dove poter utilizzare in maniera differente le nostre applicazioni il browser vi volevo far vedere come funziona un attimo che confermo i dati di Google che dopo aver configurato il mio account mi viene chiesto allora queste sono le pagine dobbiamo dargli un attimo di tempo per caricarle come vedete è molto reattiva l'interfaccia non scatta assolutamente e per quanto riguarda la navigazione io la trovo piuttosto fluida ma questo dipende dal fatto che io ho una connessione a casa da 100 megabit quindi sicuramente questa parte influenza come vedete è possibile effettuare il pitch to zoom come qualunque altro dispositivo e vi ricordo che come al solito essendo un dispositivo molto economico è possibile effettuare dei touch sullo schermo fino a un massimo di due tocchi contemporaneamente quindi è inutile andare a cercare applicazioni o diciamo tentare di fare più gesture di quelle già presenti perché tanto non verranno accettate per quanto riguarda invece il play store noi abbiamo il classico play store che è presente su tutti quanti i dispositivi android libero che lo trovate direttamente sul desktop lo troveremo qui e per quanto altro ci sia da dire su questo telefono io posso dirvi che mi sono fatto una buona opinione e a me è piaciuto abbastanza e l'ho fatto vedere anzi a mia figlia che probabilmente lo prenderà lei questo telefono però io quello che voglio dirvi è che per 100 euro ragazzi ma che ci comprate con 100 euro cioè questo telefono va veramente bene cioè io sono rimasto certo è chiaro che se siete dei giocatori o vi piace molto usare la videocamera per fare i video o cose del genere non è il telefono che fa per voi ma per tutto il resto secondo me può andare bene per persone magari se dovete comprare un telefono per i vostri genitori o se magari lo volete comprare per i vostri figli per quello secondo me ragazzi è una bomba alla prossima grazie a tutti